Un tribunale in Ecuador ha emesso un mandato di arresto nei confronti dell'ex presidente Rafael Correa che ha guidato il paese dal 2007 al 2017. Correa che ha accusato di aver rapito un avversario politico nel 2012, nega ogni accusa. Euronews lo ha incontrato in un appartamento vicino a Bruxelles dove l'ex capo di Stato ora vive con la moglie e i figli. Cosa c'entro con questo evento? All'inizio non ero stato nemmeno accusato. È successo nel 2012. Nel 2013 la presunta vittima ha presentato un'accusa specifica e non mi ha accusato, ma già a novembre si erano resi conto che con fasse e testimonianze potevano indicare il presidente come il colpevole e hanno annunciato che Correa sarebbe stato oggetto di un mandato d'arresto dell'Interpol. Così hanno dato il via a tutto questo che non ha né basi legali né logiche. Il mese scorso il procuratore generale dell'Equador ha dichiarato di avere prove sufficienti per perseguire Correa. Ciò ha innescato dimostrazioni nelle strade di Quito a sostegno dell'ex presidente che rimane popolare tra alcuni ecuadoriani per le politiche sociali che ha attuato. Il giudice sostiene che Correa non si è presentato alla Corte come gli è stato chiesto e ha ordinato quindi il suo arresto. Ma l'ex presidente ribatte che era impossibile per lui tornare nel suo paese e ha aggiunto che l'intero caso ha una motivazione politica mirata a impedirgli di svolgere qualsiasi ruolo in Ecuador in futuro. Mi fa male dirlo ma l'Equador è visto di nuovo come la repubblica delle banane. Nessun paese serio prenderà in considerazione un mandato d'arresto così chiaramente politico, illegale e assurdo. Soprattutto il Belgio. Ma le persone sono molto nervose. I miei amici, la famiglia, i nostri militanti. Tutti sostengono che ci sarà una chiamata dall'Interpol che mi cattureranno e che verrà concessa l'estradizione per mettermi in prigione nella dittatura ecuadoregna. Non è possibile, non succederà nulla di tutto ciò, specialmente qui in Belgio dove ci sono molte garanzie. Siamo al sicuro qui. Nessuno ha bisogno di preoccuparsi per me. Dobbiamo preoccuparci del paese. Finora l'Agenzia di Polizia Internazionale non ha ancora reagito alla richiesta del giudice Equadoregno per la cattura dell'ex presidente Correa.